Alessia e Luca sono seduti sul divano a guardare la tv. Alessia ha il computer aperto davanti a sé dove sta guardando vari annunci di lavoro. Luca vedendo Alessia molto impegnata lei chiede cosa stia facendo e lei molto felice gli comunica che sta pensando di trovarsi un lavoro part time visto che ormai i bimbi vanno entrambi a scuola e avendo molto più tempo libero vuole aiutare nelle spese. Luca la guarda irritato dicendole che è lui quello che lavora e guadagna mentre lei ha il compito di occuparsi dei figli e della casa. Le chiude il computer e le dice che non devi mettersi strane idee in testa. È violenza? Sì. La violenza economica è qualsiasi forma di privazione sfruttamento o controllo che mira a creare dipendenza economica o ad imporre impegni economici non voluti e o e storti con inganno. Alessia è in cucina intenta preparare la cena il rumore delle chiavi nella serratura la fai rigirire. Luca entra sbattendo la porta ha lo sguardo cupo il passo pesante che cos'è questa roba dice. Alessia cerca di spiegare la voce bassa pensavo ti piacesse. Luca si avvicina la mano colpisce il tavolo facendo sobbalzare piatto e posate. Alessia indietreggia ma lui a fare il braccio. Non pensare fai quello che ti dico. Quando finalmente Luca esce dalla stanza Alessia rimane lì con il braccio che pulsa di dolore respirando a fatica. È violenza? Sì. È violenza qualsiasi forma di intimidazione o atto che metta a rischio l'integrità fisica della persona provocando danni fisici a volte anche permanenti. Marco e Giulia figli di Alessia e Luca sono seduti al tavolo che finiscono di cenare. Alessia sta sparicchiando quando Luca entra nella stanza e visibilmente irritato le chiede dove sia stata tutto il pomeriggio. Lei replica che come gli aveva detto a pranzo doveva portare Marco a calcio e Giulia a nuoto. Luca le urla contro. Sempre con la scusa pronta tu! All'improvviso alza la mano e la colpisce con uno schiaffo forte. Marco e Giulia guardano la scena con occhi sbarrati, immobili, senza capire del tutto cosa sia successo ma avvertendo la paura e il dolore nella stanza. È violenza? Sì. La violenza assistita avviene quando in famiglia viene agita violenza. I bambini e le bambine, anche se piccolissimi, ne sono a qualche livello consapevoli, coinvolti e ne soffrono le conseguenze. Questi e queste, bambini e bambine, imparano che la donna è vittima e l'uomo è legittimato all'uso della forza. Alessia è seduta sul divano con il telefono in mano. Sta leggendo un messaggio di una vecchia amica che le ha chiesto di uscire per un caffè. Sta per rispondere quando Luca entra nella stanza. Chi ti scrive? Alessia prova a spiegare. È Martina, vuole vedermi, ma Luca la interrompe con un sorriso tagliente. Martina? Quella che ti riempie la testa di stupidaggini? Sai che non è tempo per queste cose? Devi pensare alla casa, a me. Non vuoi sembrare una pessima moglie, vero? Alessia abbassa lo sguardo, il cuore appesante. Canciara il messaggio senza rispondere. Quando Luca esce, Alessia si sente vuota. È violenza? Sì. Nella violenza psicologica non viene utilizzata la forza fisica, ma atti o parole, obbligando a fare delle azioni alle quali non viene dato il consenso minacciando, facendo intimidazioni e servizi amorali che con il passare del tempo possono causare dei traumi psicologici. Alessia è seduta al tavolino di un bar, guardando fuori dalla finestra. Il telefono vibra. Un messaggio da un numero che purtroppo conosce molto bene. Non puoi scappare da me, è l'ennesimo messaggio di Luca. Lo vede dall'altra parte della strada, finge di ignorarlo, ma il nodo allo stomaco cresce. Si alza ed esce in fretta. Arrivata alla fermata dell'autobus, sento una voce dietro di sé. Mi stai evitando? Dice Luca, troppo vicino. Alessia resta immobile, il cuore in gola, finché non riesce a salire sul primo autobus. Altri messaggi arrivano, sempre più minacciosi, che non la lasciano mai in pace. È violenza? Sì. Lo stalking comprende comportamenti molesti e invasivi, tenuti da una persona ossigenata che generano stati d'ansia e paura, che compromettono il normale svolgimento della vita. Alessia è in camera da letto, intenta piegare i vestiti. La porta si apre e Luca entra. Lei gli rivolge un sorriso teso. È tardi, sono stanca, vorrei andare a dormire. Luca si avvicina, ignorando le sue parole. Le sue mani le afferrano con forza ai fianchi. Non voglio, dice Alessia, cercando di allontanarsi. Lui stringe di più, il volto si indurisce. Sei mia moglie, sussurra, come se fosse una spiegazione sufficiente. Lei si rigidisce, paralizzata dalla paura, sapendo cosa sta arrivando. Quando Luca finalmente si sta lontano, all'essere rimane immobile, con le lacrime che iniziano a scendere. È violenza? Sì. La violenza sessuale comprende qualsiasi forma di imposizione di rapporti o pratiche sessuali, indesiderate ottenute con la forza fisica e o con minacce di varia natura. L'imposizione di un rapporto sessuale o di un'intimità non desiderata provocano nella vittima profonde ferite psichiche oltre che fisiche.